Il dito le imprese e le famiglie non possono andare avanti così, bisogna fermare le bollette, le prossime, attraverso un intervento europeo e nazionale di tetto alle bollette e di disaccoppiamento tra produzione via gas e produzione via rinnovato. Però bisogna intervenire sulle bollette che sono già arrivate, perché le imprese e le famiglie non possono pagare le scelte. C'è bisogno di raddocchiare il credito di imposta sia per le imprese energevole che per le altre attività economiche, rendendo cedibile e frazionabile il credito di imposta e bisogna per le famiglie fare come hanno fatto in Austria. Un intervento che noi chiamiamo luce bollette sociale, questa luce bollette sociale vuol dire un acquisto massiccio da parte della società di rente unico che ridistribuisce soprattutto alle famiglie con più difficoltà. Gli interventi di questo genere sono necessari immediatamente, perché se no le imprese non riescono a riaprire e le famiglie entrano in grande proprietà. Per noi questa è la priorità assenziale.